La precedente unità didattica abbiamo dato molte definizioni senza fare alcun esempio quindi probabilmente sarà stata una unità un po' pesante e adesso cerchiamo di semplificare un po' i concetti che abbiamo appena visto partendo dall'ultimo abbiamo parlato di alberi SLD e poi abbiamo terminato parlando di alberi SLD via R dove R è una particolare regola di computazione adesso facciamo degli esempi che spero possano chiarire questi concetti dunque supponiamo di avere questo programma Prolog cioè un programma definito che vediamo qui su questa slide PDXZ l'abbiamo già visto, questo esempio qui allora adesso supponiamo di adottare per tentare una derivazione a partire dal goal PDXB supponendo di lanciare su questo programma il goal PDXB supponiamo di adottare, dicevo, la regola di computazione di prendere come atomo di selezionare all'interno del goal corrente sempre l'atomo più a sinistra otteniamo questo albero di derivazione SLD vediamo come viene ottenuto allora il goal, la radice dell'albero è il goal che viene lanciato G G in questo caso è questo qui cioè PDXB se PDXB questo goal ha un solo sottogol e quindi la regola di computazione qualunque sia non può che selezionare lui e quindi selezioniamo questo sottogol PDXB questo sottogol può unificare o con la 1 o con la 2 perché le teste della 1 e della 2 sono sufficientemente generiche hanno entrambe due variabili come argomento per unificare quindi con entrambi gli argomenti di questo goal quindi ci sarà questa X se andiamo sulla 1 ci sarà questa X che unificherà con questa X attenzione sono variabili diverse questa potrebbe essere X1 questa X2 e B potrebbe unificare con questa Z questo se decidiamo di far unificare il goal corrente con la prima delle due clausole con cui potrebbe risolvere se invece decidiamo di farlo risolvere con la seconda PDXX e allora avremo che questa X con 1 viene unificata con questa X2 e poi questa X2 viene unificata con questa B quindi facendo la composizione avremo che questa X con 1 verrebbe unificata con la B per il passaggio tramite l'unificazione con questa X2 allora cosa si avrebbe? che lungo questo ramo dell'albero si produrrebbe già subito un ramo terminante con clausola vuota cioè una derivazione una rifutazione cioè una foglia serve una foglia successo successo e a questa derivazione corrisponderebbe la risposta calcolata XB cioè a X viene sostituita la costante B in pratica se vogliamo un attimino cercare di tornare a al concetti iniziali dobbiamo ricordarci che il goal è sostituito una clausola e sarebbe qualunque sia X NOT P se portiamo fuori il NOT diventa NOT esiste P di XB e quel NOT altro non è che la derivazione del fatto che noi abbiamo aggiunto a P la negazione della testa che vogliamo dimostrare ricordiamoci che stiamo utilizzando un procedimento che all'insieme di clausola di partenza unisce la negazione della tesi che vogliamo dimostrare e quindi stiamo cercando di dimostrare che esiste un X tale per cui P di XB rifaccio tutto discorso al contrario supponiamo che io voglio dimostrare che esiste un X tale per cui P di XB alla luce di quanto affermato dalla 1 dalla 2 dalla 3 che cosa faccio nego questo goal quindi il NOT esiste X sale che P di XB il NOT lo faccio entrare dentro e diventa qualunque sia X NOT P di XB che sarebbe esattamente il goal perché qui come vi ricorderete abbiamo supposto che c'è un quantificatore universale qui davanti l'abbiamo tolto ma c'è un quantificatore universale e quindi in pratica aver percorso questa strada qui ci ha portato a provare la contraddizione e ci ha detto che la contraddizione la otteniamo a luce del fatto che andiamo a sottolineare da X dal B cioè in pratica abbiamo detto sì è vero che esiste un X tale per cui vale P di XB e questo X è B infatti una delle due clausole la 2 quella con cui ha risolto sta dicendo che ogni oggetto è P in relazione P con se stesso esiste un oggetto del dominio X che è in relazione P con B sì B questa è una strada torniamo alla strada 1 se andiamo lungo la strada 1 abbiamo un nuovo risolvente quindi un nuovo goal questo era il goal iniziale adesso abbiamo un goal G0 e questo è il goal G1 che si ottiene associando a questa X 1 questa X a B Z a questo punto questi due se ne vanno vengono risolti e rimane il risolvente Q di X B dove questa X sarebbe questa però questa è stata tonificata con questa quindi questa sarebbe la X originaria Y virgola P di Y B perché la Z è stata tonificata con la costante B A questo punto qui la regola di selezione dice di questi due sottoatomi devi prendere quello più a sinistra quella che usa Prolog e quindi prendiamo Q di XY Q di XY può unificare solo con la 3 e allora c'è un solo ramo qui che deriva e questa X ha unificato con la A e questa B Y unifica con la B quindi si elidono questo atomo e questo e il nuovo risolvente è questo P di BB perché la Y ha unificato questa Y ha unificato con la B di Q di AB e quindi questo è diventato P di BP ora questo è il nuovo risolvente c'ha un solo atomo dentro e quindi la regola di computazione prende quello e di nuovo questo può unificare con la 1 o con la 2 si unifica con la 2 che cosa abbiamo abbiamo che questa qui chiamiamola X3 unifica con B X3 unifica con B perfetto si produce la clausola vuota ma ricordiamoci che se facciamo la composizione di tutte le sostituzioni che sono state effettuate questa X originaria passando per 1 aveva unificato con questa X X2 che poi qui la X2 aveva unificato con A e quindi la X1 originaria unifica con la X2 che poi unifica con la A e quindi la X1 originaria ha unificato con la A quindi lungo questa strada abbiamo un'altra disposta calcolata che assegna alla variabile X la costante A di nuovo qui possiamo dire sì esiste un'altra X per cui vale P di X B sì vale P di X B ed è esiste un altro oggetto del dominio per cui vale P di esiste un altro X che è un altro oggetto del dominio che è in relazione P con B uno è B stesso e un altro è A quindi il concetto è questo il prolog le troverebbe tutte le soluzioni del gol perché va a trovare abbiamo visto prima l'insieme di fallimento finito coincide col modello minimo di Erbrand indipendentemente dalla regola di computazione nel senso che all'interno dell'albero SLD via R qualunque sia R esiste sempre un ramo che se il simile di clausola di portenza è insoddisfacibile esisteranno tanti rami che terminano con la clausola vuota quanti sono le gli atomi ground del modello minimo di Erbrand in questo caso ce ne sono solo due e cioè del modello minimo di Erbrand che però sono unificabili con il gol originario ovviamente che io non gli diamo li lanciamo come gol e produciamo una rifutazione questo era in concetto un po' più ampio di come l'ho detto io tornando però sempre qui all'esempio vediamo che se Pdbb avesse unificato con la 1 avrebbe prodotto questo risolvente qui perché la x viene unificata con la b e anche la z viene unificata con la b questo Qdbb u attenzione è un'altra variabile forse l'avrei potuto chiamare di nuovo anche ancora y ma serve una y3 ci ho messo u anche questa qui u è una variabile andiamo a selezionare Q qui dobbiamo prendere lato in più a sinistra Qdbb u e abbiamo che questa non unifica con niente perché non può unificare con la 1 perché qui c'è P e qui c'è Q non può unificare con la 2 per lo stesso motivo potrebbe unificare con la 3 perché c'è Q e Q ma qui c'è B che è una costante qui c'è A che è una costante quindi non può unificare neanche con la 3 e dunque a questo punto questo qui rappresenta un nodo fallimento che non ha figli e quindi la computazione finisce qui quello che abbiamo visto è un abro SLD che viene prodotto da questo programma P con questo gol G utilizzando come regola di computazione quella di prendere sempre lato più a sinistra e vediamo che è un albero finito nel senso che tutti i rami terminano in un numero di passi finiti due di questi rami portano al successo e uno porta al fallimento i due che portano al successo facendo la composizione della variabile di tutte le sostituzioni che sono state fatte lungo quel percorso a partire dalla radice fino alla foglia destringendo la composizione alle sole variabili che comparivano nel gol originario cioè questa x ebbene ci da la particolare istanziazione della x per cui è vero che esiste P per cui si ha la contraddizione e quindi sostanzialmente abbiamo la risposta che la risposta calcolata è una risposta corretta e tutte le risposte corrette vengono trovate mediante questa procedura qui abbiamo utilizzato la regola di prendere sempre come atomo di selezionare sempre come atomo nel gol corrente l'atomo più a sinistra prendiamo per esempio la regola stesso programma stesso gol ma come regola utilizziamo quella di prendere sempre l'atomo più a destra allora all'inizio l'atomo è uno solo quindi dobbiamo prendere per forza quello che se unificasse con la 2 abbiamo visto porterebbe a questo ramo che è lo stesso se unificasse con la 1 porterebbe a questo risolvente che è lo stesso di questo ma qui a questo punto prenderemmo questo altro atomo atomo P che a sua volta potrebbe di nuovo unificare con la 2 e ci porterebbe a questo risultato qui o con la 1 se andiamo sul lato 2 abbiamo questo risolvente qui perché la P viene lisa quindi rimane solo la Q Q di XB che può unificare con la 3 unificando con la 3 mi produce la clausola vuota e lungo questo ramo abbiamo di nuovo un successo e di nuovo abbiamo che come risposta coccolata abbiamo che ha X strisce A quindi vedete che vengono prodotti gli stessi due rami terminanti con successo a cui corrispondono le medesime risposte ma quello che c'è di diverso è che lungo questo ramo qui si produce un albero infinito cioè abbiamo cambiato la regola di computazione cambia totalmente la forma dell'albero SLD addirittura quello che era un albero finito diventa un albero infinito cioè con rami che non terminano mai ma all'interno dell'albero esistono i medesimi rami cioè esistono tanti rami che terminano con successo quanti erano i rami nel caso dell'altro albero ci sono ci sono e sono non gli stessi ma hanno come le stesse risposte calcolate il problema è trovarli perché adesso dobbiamo stare un po' attenti essendo che l'albero è infinito se noi utilizzassimo ad esempio una strategia di ricerca depth first e cioè quella di andare in profondità dal punto di vista computazionale potremmo avere dei problemi perché andare in profondità su un albero di questo tipo per tornare indietro qualora si incontrasse una foglia fallimento con il meccanismo del backtracking beh avrebbe come risultato che non si tornerà mai indietro e quindi i rami terminanti con successo non li troveremmo mai qui invece se adottiamo una strategia depth first andiamo lungo questo ramo qui troviamo un fallimento scusa troviamo un fallimento backtracking si torna indietro si va su quest'altra strada si trova il successo questo sarebbe il primo successo perché se ne vogliamo trovare altri si torna indietro si va qui qui non ci sono alternative si ritorna qui c'è un'alternativa si trova quest'altra questa è l'altro successo questa sarebbe la strategia depth first la strategia depth first è questa qui la strategia breadth first per ampiezza invece è così così e si trova prima questa dopodiché si va sotto si va così e così e si trova quest'altra queste sono le due strategie diverse depth first breadth first ma ne parleremo tantissimo nei prossimi moduli didattici quello che è importante capire è che se adottassimo una strategia depth first con dei rami infiniti potremmo non trovare mai le soluzioni che stiamo cercando allora è proprio questo e cioè andiamo a vedere cos'è una strategia di ricerca e cos'è una procedura di rifutazione allora partiamo dai toremi se r è una qualunque regola di computazione se più unito g è insoddisfacibile allora l'albero sld per più unito g via r ha almeno un glamo terminante con successo cioè con una clausola vuota per ogni risposta per ogni risposta corretta teta per più unito g abbiamo che essa è mostrata sull'albero cioè esiste un ramo successo tale che teta è un'istanza della risposta calcolata inoltre ogni albero sld sia esso finito infinito ha lo stesso numero di rami terminanti con successo cos'è una strategia di ricerca la strategia di ricerca è la strategia di attraversamento degli alberi che abbiamo appena visto e cioè come li andiamo a visitare alla ricerca dei rami terminanti con successo la procedura di rifutazione è una coppia costituita da una regola di computazione R che mi define quindi un albero piuttosto che un altro e una strategia di ricerca S all'interno di quell'albero i prolog standard utilizzano come regola R quella di seleziona sempre l'atomo più a sinistra e come S utilizzano la depth first cioè in pratica utilizzare una depth first dire che andiamo in profondità significa che qualora abbiamo che l'atomo selezionare possa unificare con la testa di più clausole si tenta sempre ad unificarla con la prima di queste clausole eventualmente alla luce di un fallimento tornando indietro per il backtracking si proverà a unificarlo quell'atomo con la testa della seconda clausola eventualmente per fallimento si andrebbe alla terza e così via se ce ne fossero più di una di clausole con la cui testa l'atomo selezionato possa unificare quindi in pratica una strategia depth first coincide con il concetto di andare a tentare le clausole con cui far unificare l'atomo selezionato sempre nello stesso ordine quindi qui abbiamo due clausole la 1 e la 2 che sono generiche entrambe e quindi qualunque atomo che può unificare con la 1 può unificare anche con la 2 e quindi verrà sempre tentata prima la 1 e poi eventualmente sul backtracking a luce di un fallimento verrebbe tentata la 2 chiaro che nel caso di un albero infinito il fallimento non l'avremo mai per cui la 2 non verrebbe mai tentata e questo è il motivo per cui i pro possono perdere la completezza e cioè avendo fissato la regola con cui si 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 cercano le clausole che possano selezionare con l'atomo selezionato possono unificare con l'atomo selezionato la cui testo può unificare con l'atomo selezionato essendo fisso l'ordine e quindi avendo adottato il stesso concetto una strategia del first di ricerca una strategia del first purtroppo abbiamo che se per caso con quella scelta R della regola di computazione abbiamo che l'albero è infinito e qualora i rami infiniti possano apparire più a sinistra degli alberi che terminano con successo bene i rami terminati con successo il prolog non li troverebbe mai quindi il prolog non è completo la SLID resolution a cui il prolog si ispira è completa ma quando fissiamo la regola di computazione continua a essere completa ma quando fissiamo sia la regola di computazione che i criteri con cui andare a selezionare le clausole del programma definito con cui l'atomo selezionato può unificare perde la completezza e il prolog quindi perde la completezza quindi di questo dovremmo tenere conto e dovremmo stare attenti perché dobbiamo concepire dei programmi che non ci facciano perdere la completezza nella ricerca delle soluzioni quando andremo a programmare in prolog allora uno può dire ma esisterà una regola di computazione che ci mette al riparo dal rischio di perdere la completezza prima per esempio abbiamo visto che l'albero infinito si genera con la regola di prendere sempre l'atomo più a destra magari forse evitando questo no anche là se prendendo l'atomo più a sinistra si può generare alberi infiniti e magari con quella a destra no è del tutto arbitrario questo concetto per trovare una regola di computazione tale per cui la completezza venisse recuperata anche stante una regola una tragedia di ricerca del first ci vorrebbe la chiaroveggenza e la chiaroveggenza non è stata ancora scoperta e quindi purtroppo quello che stiamo per dire è che abbiamo un risultato negativo e cioè sarà il programmatore che dovrà pensare il programma in maniera tale che non perda la competenza perché in generale ci possono essere programmi che tali per cui addirittura come stiamo per vedere la soluzione c'è ma non esiste nessuna regola di computazione alla luce del quale si potrebbe trovarla consideriamo ad esempio questo programma qui composto da quattro clausole pdab pdcb e poi la 3 e la 4 che vedete qui in questo esempio se adesso noi lanciamo il goal pdac ad esempio cioè vogliamo chiederci se pdac è conseguenza logica di queste clausole ebbene pdac è conseguenza logica perché c'è un percorso che porta al successo se per esempio noi facciamo unificare con la 3 abbiamo che a unifica con x e c con z a questo punto questo diventa il goal il goal corrente diventa questo qui pday pdc e supponiamo di unificare questo potrebbe unificare sia con la 1 che con la 3 che con la 4 supponiamo pday no chiedo scusa pdc no no prendiamo per esempio pday andiamo con la 1 e il risolvente diventa pdbc perché pdaa va bene la y diventa b quindi questa y è b adesso e questo e questo qui si elidono lungo la 1 il goal diventa pdbc e se poi andassimo a unificare con la 4 produrremo il goal pdcb infatti questa dice pdxy se pdx quindi vengono invertiti gli argomenti a questo punto pdcb potrebbe unificare con la 2 e produrre la clausola vuota quindi qui abbiamo che se restringiamo abbiamo prodotto la clausola vuota abbiamo usato delle sostituzioni ma il goal originario non aveva variabili per cui se dobbiamo restringere la composizione delle sostituzioni effettuate lungo questo percorso alle sole variabili che comparivano nel goal originario il goal originario non ha variabili quindi non abbiamo nessuna risposta calcolata semplicemente il prolog dovrebbe rispondere yes e cioè questo atomo che abbiamo lanciato che è un atomo ground è conseguenza logica del programma qual è il problema? il problema è che qualunque sia la regola che noi adottiamo fissa se prendere sempre l'atomo più a sinistra o se prendere sempre l'atomo più a destra o se prendere sempre l'atomo al centro ebbene noi qui questo questo ramo qui non lo non lo troviamo mai perché? perché andremo a finire sempre all'interno di un ramo infinito infatti meno quello che termina con la regola per andarla a trovare successo dovremo risolvere una volta utilizzando la 3 una volta la 1 una volta la 4 e una volta la 2 cioè dobbiamo utilizzare tutte e 4 queste clausole in particolare dobbiamo utilizzare sia la 3 che la 4 il problema è che la 3 e la 4 hanno come testa un atomo con cui qualunque atomo cioè se un atomo può unificare con la testa della 3 può unificare anche con la 4 se un atomo può unificare con la testa della 4 può unificare anche con la testa della 3 quindi fissando l'ordine con cui vengono esaminate le clausole per tentare di unificare l'atomo corrente se può unificare con la 3 unificherà sempre con la 3 all'infinito la 4 non la prenderà mai se può unificare con la 4 utilizzerà sempre la 4 all'infinito la 3 non la utilizzerà mai qualora la 4 stesse prima della 3 e quindi indipendentemente dall'ordine in cui mettiamo se mettiamo prima la 3 o la 4 della 4 se mettiamo prima la 4 della 3 all'interno di una derivazione avendo fissato l'ordine in cui vengono esaminate le clausole per poter unificare con l'atomo selezionato ne verrà sempre utilizzata solo una di queste due ma per poter trovare la soluzione bisogna utilizzare tutte e due e quindi il prologue che utilizza una depth first la clausola e la clausola vuota non la produrrà mai non terminereà mai la computazione con un ramo successo questo è un programma prologue che sarebbe sempre incompleto cioè avrebbe il rischio di incompletezza certo che se io lancio PDAB PDAB ha successo se io lancio PDCB PDCB ha successo ma se io lancio PDAC non ci sarebbe modo di arrivare al successo anche se il successo c'è all'interno dell'albero questo è dovuto al fatto ripeto che si utilizza una strategia di ricerca depth first si utilizza cioè un criterio per cui è fisso l'ordine con cui vengono esaminate le clausole ecco il motivo per cui il prologue non è completo abbiamo precedente visto il problema dell'occur check che è il problema per cui il prologue non è sempre corretto abbiamo quindi visto che il prologue non è né sempre corretto né sempre completo adesso vediamo un'altra tecnica che si usa nel prologue che si chiama il cut cut taglio che viene utilizzata per tentare di recuperare la completezza all'atto pratico anche ovviamente una depth first e oppure per ottimizzare in generale la computazione è una tecnica quindi molto utile per sia per recuperare la completezza che per eventualmente recuperare l'efficienza che sostanzialmente soprattutto serve per l'efficienza che però è pericolosa perché potrebbe far perdere la correttezza vediamo di che si tratta questo qui il cut che è normalmente scritto così in prologue con un punto esclamativo è un predicato metalogico cioè non appartiene alla logica è un simbolo questo qui che non appartiene al linguaggio che dal punto di vista procedurale viene implementato in questa maniera se il meccanismo di risoluzione seleziona questo atomo per poterlo unificare con la testa di una clausola a un certo punto ebbene lui per definizione ha successo anche se ovviamente non esiste nessuna clausola che ce l'ha come testa questo atomo ha successo punto e quindi la computazione automaticamente va a prende in considerazione che è un atomo selezionato quello che gli è più a destra che è più a destra di lui però se per backtracking si dovesse ritornare sull'atomo selezionato sul cut lui fallisce e facendo fallire fallisce e fa fallire quindi fallisce in maniera non recuperabile e fa fallire quindi l'atomo il goal che aveva unificato con la testa della clausola che conteneva quel cut cioè cerchiamo di capire facciamo questo esempio qui supponiamo di avere un programma qui con alcune clausole e tre delle quali le abbiamo messi in evidenza una delle quali questa qui contiene questo cut e supponiamo di lanciare il goal A il goal A unifica con la testa di questa clausola perché abbiamo risolvente B C ma supponiamo che potrebbe unificare anche con altre clausole qui a questo punto viene selezionato l'atomo B che unifica con questa clausola per cui B se ne va e viene sortito dal corpo della clausola con la cui testa ha unificato quindi al posto di B avremo D cat ed E D cat ed E e poi la C perché la C ce la portiamo supponiamo che la D abbia successo anzi sia successo perché c'è questa clausola D e che quindi viene prodotta viene sia l'idolo e quindi la D se ne va e a questo punto l'atomo selezionato diventa il cat il cat automaticamente ha successo e quindi a questo punto il gol corrente diventa EC ora supponiamo che questo gol corrente abbia qui un sottoalbero finitamente fallito e cioè qui ci siano tutti i rami finiti e tutti terminanti nessuno terminante con la clausola vuota a questo punto si ritornerebbe su per backtracking e si tenterebbe di risoddisfare questo ma questo fallisce quindi non si non si tenta neanche di risoddisfare la D fallisce anche il BC addirittura la computazione ritorna al gol che aveva chiamato in causa la clausola dentro cui il cat compariva e si tenta quindi di risoddisfare quel gol il gol genitore diciamo così che aveva unificato con la testa della clausola nel cui corpo il cat compariva a che cosa serve tutto questo questo serve perché il programmatore per un qualche motivo sa che se qui non c'è la soluzione non ci può neanche essere qui e quindi evita di tentare queste strade e fa salire la computazione a questo livello questa tecnica come vedremo quando faremo il prolog è molto utilizzata per rendere efficienti i programmi dichiarativi però ha come conseguenza una conseguenza spiacevole e cioè che si perde la la cosiddetta diciamo così correttezza dichiarativa della la semantica dichiarativa dei programmi perché quello che si vorrebbe fare nella programmazione logica è di esprimere delle proprietà all'interno dei programmi in maniera appunto dichiarativa puramente dichiarativa per esempio eh noi vorremmo dire che dati i due numeri x e y il massimo fra questi due sarà y se x è minore o uguale a y punto e poi vorremmo un'altra clausola che dicesse il massimo fra x e y sarà x se x è maggiore o uguale a y per motivi di efficienza invece eh eh converrà come vedremo quando faremo il prolog scrivere così massimo x y fra x y e y se x è minore o uguale a y cut e e poi aggiungere una seconda clausola massimo x y x come funziona questo programma che se io lanciassi per esempio massimo 3 5 z voglio sapere quale è il massimo fra 3 e 5 ehm allora questo z verbo unificato con y che è unificato da gol con 5 se x è minore di 5 e infatti 3 è minore di 5 questo cut non farebbe nulla e mi restituirebbe mi restituirebbe z uguale 5 se invece x fosse 5 e y fosse 3 allora questo fallirebbe perché 5 non è minore di 3 e si passerebbe sotto e automaticamente verrebbe restituito a z 5 ma poi questo sarà più chiaro quando faremo proprio gli esercizi prolog questo è ci ritorniamo su questo esempio un modo per programmare in maniera dichiarativa la relazione maggiore o minore di che fa uso del cut che è particolarmente efficiente semplicemente che si è persa la semantica dichiarativa perché la seconda clausola se uno la legge da solo non ha senso non ha senso dire che fra x e y il massimo è x punto questo di per sé non ha senso sarebbe vero qui ci vuole un qualche cosa per spiegare quando questo è vero per esempio ci vuole un x maggiore o uguale ad y ma non c'è eppure il programma funziona perché funziona anche bene perché in prete si arriva alla seconda clausola solo se ha fallito questo qui questo letterale qui altrimenti non si va a unificare con questa clausa avendo fallito questo siamo sicuri che il maggiore fra x e y è x perché non è minore o uguale x e y ma sul cut torneremo molto quando faremo il prologue bene qui finisce anche questa unità didattica nella prossima vedremo cosa succede e per quale se noi mettiamo la negazione nel corpo delle clausole dei programmi definiti a questo punto non si chiamaranno più programmi definiti ma si chiamano programmi normali perché siamo costretti a farlo in certi casi e quali sono i problemi in cui andremo incontro grazie a tutti